Carlo Marello, il salvatore dei franchi. Carlo Martello, detto anche Marcello, è una delle figure più importanti della storia medievale europea. Nato intorno al 689 andenne, in Belgio, fu maggiordomo di Palazzo dei Regni Merovingi di Austrasia dal 716, di Burgundia dal 717 ed in Austria dal 719 sino alla sua morte, per quattro anni, dal 737 al 741, esercitò il potere regale pur non avendone il titolo. Carlo Martello era figlio di Pipino di Erstal, che aveva già ricoperto la carica di maggiordomo di Palazzo e di Alpaide di Bruyere. Alla morte del padre, avvenuta nel 714, Carlo si trovò a dover affrontare una situazione politica difficile. I Regni Merovingi erano in preda a disordini e conflitti interni, e i franchi erano minacciati da potenti nemici esterni, come i Sassoni e gli Arabi. Carlo Martello riuscì a superare queste difficoltà e a consolidare il suo potere. Nel 716 sconfisse i Sassoni nella battaglia di Vinci, fermando la loro avanzata verso l'Austrasia. Nel 717 sconfisse il re neustrico Chilperico II e il suo alleato, il duca di Borgogna Teodorico IV, nella battaglia di Tertri, unificando sotto il suo controllo i tre regni dei Franchi. Nel 732 Carlo Martello affrontò una nuova minaccia, quella degli Arabi, che avevano conquistato la Spagna e stavano avanzando verso la Francia. Nella battaglia di Poitiers, Carlo Martello sconfisse gli Arabi, impedendo loro di invadere la Francia e fermando la loro avanzata in Europa occidentale. La vittoria di Poitiers ebbe un'importanza decisiva per la storia dell'Europa. Essa salvò la cristianità dall'invasione araba e contribuì a consolidare il potere dei Franchi. Carlo Martello fu quindi considerato un salvatore della cristianità e un eroe nazionale francese. Oltre alle sue vittorie militari, Carlo Martello si distinse anche per le sue capacità politiche e amministrative. Egli rafforzò l'esercito franco, riorganizzò l'amministrazione e promosse la cultura. Carlo Martello è considerato il fondatore della dinastia carolingia, che governò la Francia per diversi secoli. I suoi successi I successi di Carlo Martello furono molteplici e ebbero un'importante influenza sulla storia europea. Sul piano militare, sconfisse i Sassoni, gli Arabi e i Neustriani, consolidando il suo potere e la sicurezza dei Regni Franchi. Sul piano politico, unificò i tre Regni Franchi, creando le basi per la nascita della Francia punto esso il piano amministrativo, rafforzò l'esercito e l'amministrazione, rendendo i Regni Franchi più efficienti e moderni. Sul piano culturale, promosse la cultura, favorendo la diffusione del cristianesimo e della cultura latina. La sua eredità Carlo Martello è considerato una figura fondamentale nella storia europea. I suoi successi militari, politici e amministrativi contribuirono a consolidare il potere dei Franchi e a creare le basi per la nascita della Francia. La sua eredità è ancora oggi viva. Carlo Martello è considerato un eroe nazionale francese e il suo nome è associato alla vittoria della cristianità sull'Islam.